musica 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 Oh no! Oh tanto per me! Davide! Vai! Davide! Vai a spingere un po'! Hai già furto? Ehi, va! Uè, poi come giriamo? Vai, non giro! Uè, vai, 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 vai! Bilo! Davide! Orio! Dov'e lì, troppo! non mi scorda no, cazzo non sto giustando è bisogno ah, buttate in cima, ma strano io non ho questo i primi marchi spieghi una paccina proprio per la non c'è la telega ehi, fammi andare per lui come, i bruke, ha ben duro non c'è ma, quando ma, ma l'anno, non lo buccano e così e qui in a vitrò 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 manco grazie ma noi la facciamo oh, ci fa la cosa ciao vicini 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 eccomi qua ciao ambrogia per questo stai a fuoco stai a fuoco oi ma no, vuoi fumare la copia questa cosa ma il che il vivo è tutto e libero su tale, libero stai a fuoco il mio lavoro il mio lavoro è un lavoro l'uomo è un ruolo il mio lavoro è un ruolo è un ruolo è un ruolo la parte Grazie. 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 Musica No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.